Vorresti fare innamorare il tuo amico di letto? Beh, la risposta te la do in questo video. Se non sai chi sono io, sono Federico Picchianti, l'esperto numero uno in Italia di relazioni sentimentali. Ho più di mezzo milione di follower, statutiva di social media. Faccio questo da sei anni e sono arrivato in scienze e locazioni della formazione con 110. E sono il fondatore della startup Club Riservato. Se vuoi davvero scoprire, se puoi fare innamorare il tuo amico di letto, allora questo video è per te. Perché sto per rivelarti quella che è una domanda che mi è stata fatta nel Club Riservato che ti aiuterà a capire davvero se hai chance oppure no. Allora, vediamo un po' questa domanda. Questa ragazza mi dice Ciao Federico, anni fa finisco a letto con il mio miglior amico. Nessuna consapevolezza sull'amicizia. Entrambi viviamo altre situazioni. Il corso di questi anni è capitato altre volte di farlo. Tutto gestibile. E rapporto salvo. Da mesi, a questa parte invece, stiamo insieme e consumiamo ogni fine settimana. Dormiamo insieme abbracciati. Cuciniamo, ridiamo, scriviamo. Non vuol dire niente. Non vuol dire niente. Questa roba del cuciniamo, facciamo. No? Quando la leggo proprio. La donna raccontarsene. Fazzi. Non vuol dire niente. Niente. Non va bene. Ok? È già il momento. Guarda, io non leggo nemmeno il resto della domanda. È già il momento della relazione stabile. Dopo sette mesi. Se segui il percorso, se ti dice seriale, sai esattamente che cosa devi fare. Invece no. All I can see is just fucking... Giustificazioni. Eh? Già lo so. Vediamo. Eccolo. L'uomo. Mi ha detto che lui riesce a scendere d'amore. Certo. Mi vuole un bene... Certo, giustamente. Per lui è molto forte. Più bello che sto regami è semplice amore. Mi ha detto che si innamora solo colpo di fulmine. Ok, quindi non ti amerà mai. Mi ha detto che comunque è geloso di me. Ok? Quindi è geloso. Non prova emozioni. Le emozioni che scaturiscono in un uomo geloso sono le emozioni di un uomo semplicemente che non vuole che tu vai a scongiro. Vuole solo la possessione e l'esclusività sessuale. Piuttosto che perdermi come persona la sua vita, dice non so gestire la cosa, è meglio allentare il senso. Sì, perché è cosciente del fatto che tu ti attacchi di più. Se non toglierlo... Tutto ciò per non rischiare che io me ne vada per sempre la sua vita, questo non ci riesco niente. Non hai studiato. Forse sei appena entrata nel club riservato. Devi entrare adesso nel club riservato? No. Devi andare a studiare. Ok? Andare a studiare immediatamente e riprogrammare la tua mente che non è assolutamente riprogrammata. Non hai nessuna informazione utile per salvarti da questo... da questa bomba orologeria che adesso hai vicino a te, che è il tuo amico diretto. Ok? Mi riempie attenzione, complimenti, piaccio molto assieme a me, lo faccio ridere, sono un'ottima consigliera, confidente, capisco al volo. Fantastico. Anche a me piacerebbe avere la moglie ubriaca e la botte piena, però io sacrificalmente scelgo la monogamia. Chissà perché, sono un coglione. Ogni tanto ci penso, no? Dico, ma io quando avevo un cliare, potevo fare un po' come che pareva, ma alla fine ho scelto il sacrificio e la stabilità, perché alla fine tu devi scegliere, no? Invece lui adesso ha la moglie ubriaca e la botte piena. Fantastico. Potrebbe cambiare prima o poi idea sul nostro rapporto, visto che ora le cose sono densificate tra noi? No. Esiste un metodo per questo, dove può prendersi conto che due persone stanno così bene insieme, può stare davvero... Potrebbero stare davvero insieme, però davvero potrebbe innamorarsi di me? Sì, con scasse probabilità, se rispetti l'approccio di seduzione seriale, togliendo il sesso. Devi immediatamente andare a studiare. Le persone ti hanno risposto sotto egregiamente, soprattutto EG, che con una sola frase ti ha risposto in tutto e per tutto, e ti ha detto togli il sesso e inserisci antagonisti. Più brava di questo non poteva essere, quindi congratulazioni, ti metto il cuore. Esatto, le altre persone ti hanno suggerito bene. Quindi non c'è niente da fare. Ti consiglio immediatamente di iniziare adesso, a riprogrammare la tua mente. Ti mancano tutte le informazioni. Non prendere questo video come una torta di catà, prendilo come una cosa che può essere di monito per tutti quelli che stanno nel club riservato. Quindi tipo adesso. Questa persona, teoricamente, cioè se vuoi continuare... È come se io tutti i giorni spero che vinco al superenalotto. È probabile che vinco. Sì, guarda, le chance che vince al superenalotto sono di chance di vincita superenalotto statistiche. che vado a googlare. Chance di vincita, una possibilità su 622.000. Chiediamo l'intelligenza artificiale. Una possibilità su quanto significa il percentuale. Che non so fare percentuali sulle possibilità numeriche, no? Quindi chiediamo l'intelligenza artificiale. Se ce la fa. Comunque è meno dello 0%. Ok, ah, ecco. Una possibilità su 622.000.614.000.630 equivale a circa 0,0000001606%. Questa è una probabilità estremamente bassa. Quindi se ti piace vivere la vita con questa probabilità statistica, you're fucking welcome. Se invece vuoi trasformare per sempre la tua vita sentimentale, iniziare veramente a prendere in mano le retini, come quando andavo a cavallo. Vi ricordo, ho stato sul cavallo, io facevo dressage. Ok? Quindi stavo lì, tutto impostato, retini in mano, il cavallo faceva esattamente quello che dicevo io. Se doveva ballare, ballava. Se doveva saltare, saltava. That was the gist. Quindi se vuoi vivere la tua vita in questo stile, riprogramma la tua vita sentimentale, la tua mente, bla bla bla, seguendo i corsi, seguendo quello che le persone qua sotto che si stanno riprogrammando, ti confermeranno e ti dicono. Ok, vai a seguire il corso e fai quello che ti ho appena detto. Se invece vuoi vivere male, e quindi vuoi vivere con delle chance tipo 0, che ricordo 1%, o anche 1%, vuol dire che su 99 volte in cui si verifica questo scenario, cioè esattamente questo scenario, se io prendo 100 universi differenti, una sola volta su 100 volte, su 100 universi, dove si verifica questo stesso scenario che stai vedendo tu e vivendo tu, una sola volta va come vuoi, le altre 99 va in tutte le altre variabili possibili, che non sono quelle che vuoi. è statistiche, è matematica. Ok? Quindi sveglia. Buongiorno. Buongiorno. Grazie a tutti.